vero nome elisabeth bulridge grant nata a new york il 21 giugno 1986 conosciuta in tutto il mondo come lana del rey fenomeno musicale da milioni di dischi seppure figlia del miliardario rob grant la sua vita non è stata facile già a 14 anni va in collegio per tenere a bada l'abuso di alcol si riprende si laura in metafisica e lo zio la insegna a suonare decide di fare la musicista esibendosi con i nomi di sparkle jump rope queen lizzy grant and the phenomena may jailer per poi incidere un album come lizzy grant e andare a vivere in un parcheggio di roulotte nel 2010 esce il primo lp con il nome di lana del rey dal titolo aka lizzy grant e il successo è planetario la notorietà dell'album le fa inanellare un successo dietro l'altro grazie allo stile unico che unisce gusto vintage atmosfere malinconiche e glamour esce poi l'album bore to die nel 2012 gq la dichiara donna dell'anno e comincia anche a fare la modella ha avuto una relazione di due anni con barry james o'neill frontman dei cassidy e presunti flirt smentiti con marylin manson e axel rosis all'inizio di luglio è stata avvistata a portofino tra le braccia di franco carrozzini figlio della direttrice di voguitaglia carla sozzani le sue passioni sembrano le dichiarazioni shock tipo voler essere morta come curcobain e fregarsene delle critiche alle sue scelte musicali ed estetiche a giugno è uscito l'ultimo album ultra violence è già diventato una super hit internazionale e a breve partirà un tour mondiale